L'entrano alla scuola a Roma, a un certo punto arriva la professoressa Amadin e comincia a appello al Hussein Mustafa, il ragazzo si alza presente, dice Amel Khalif, si alza un altro ragazzo presente, Ahmed Kabul, si alza un altro ragazzo presente, a un certo punto comincia a fare al-Domar Yann, Silenzio, al-Domar Yann, silenzio, risponde nessuno, al-Domar Yann, si alza il ragazzetto e gli fa, a professore me sa che sono io, però si pronuncia Aldo Mariani.